Ecco qui, allora, sto per mostrare due sentieri di conigli, della peggior specie, che è coniglia dal capello riccio, mica cattesto, oh oh, però per gli amici, per gli amici, per quest'altro che è invece, un po' coniglia bionda qua, non giocano più, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo, 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 che non giocheranno più a biliardino questi due conigli, d'accordo? Fai primo piano a tutte e due, primo piano, caggia ce l'ho fatta, primo piano, primo piano a padrino, coniglio, eccolo, i conigli, avrà, bravo.